La questione posta dagli autotrasportatori in maniera così eclatante non può non essere tenuta in debito conto, vi è un problema di commercializzazione dei nostri prodotti, vi è un problema di contraffazione dei nostri prodotti, vi è anche un problema di cooperazione con i paesi frontalieri e non soltanto con quelli che non sempre al passo quei tempi. Vi è un tema che riguarda ancora l'agricoltura, la riforma della PAC è in fase avanzata di istruttore, dobbiamo fare in modo che sia realmente coerente con i parametri voluti dalla nostra delegazione in commissione agricoltura, vi è un tema che riguarda i combustibili che è strettamente legata alle fonti di energia rinnovabile e la green economy sulla quale sta puntando decisamente il commissario Tajani. Un'azione che deve essere coordinata con delle proposte serie in questa direzione, la delegazione italiana ha elaborato un pacchetto di proposte che serve anche a capire e a comprendere meglio che il tema delle accise va strettamente correlato a quello di una insularità che ha già sofferto danni ambientali importanti per la presenza di raffineria e che deve essere ristorata con misure compensative a serie che sono state richieste con forza di energia proprio in questi giorni al governo Monti.